Erano anni che speravo che qualcuno facesse un ultraportatile del genere, avevo un po' sperato in Intel con il lancio dei Tiger Lake, ma aveva ragione Apple a separarsi da Intel perché se questo è il risultato, l'unica cosa che rimpiango è che non l'abbia fatto prima. MacBook Air e soprattutto il nuovo SoC M1 sono veramente rivoluzionari e adesso vi spiego come mai. Allora per capire cosa abbia di tanto rivoluzionario questo secondo MacBook Air del 2020, perché se vi ricordate bene in primavera Apple ne aveva presentato un altro, l'ho anche recensito qualche mese fa, bisogna partire da quello che c'è dentro non da quello che c'è fuori perché la parte esteriore è praticamente identica. C'è la stessa tastiera, se non sbaglio cambiano un pochino di toggle, adesso c'è quello per Spotlight, per la dettatura vocale e soprattutto quello che uso tantissimo per la modalità non disturbare, ma la tastiera è rimasta la stessa, piacevole, io preferivo la Butterfly, sono probabilmente uno dei pochi che la preferiva, ma va bene così, è una delle migliori tastiere che possiate trovare su un portatile di oggigiorno anche perché la base di appoggio è veramente granitica, ottima retroilluminazione, nulla davvero da eccepire, Touch ID sempre impeccabile. Il trackpad è il migliore che possiate trovare su un portatile ancora oggi, l'unica cosa che gli manca sono un po' di gesture in più, ma si rimedia facilmente con applicazioni di terze parti. L'audio è uno dei migliori che possiate trovare, mi sto forse un po' ripetendo, sui notebook di oggigiorno, non il migliore in casa Apple, ma senz'altro superiore alla media e lo schermo che è, sì, indovinato, uno dei migliori che possiate trovare, 2560x1600 pixel, non è soltanto un fatto di risoluzione, c'è anche il pieno supporto, questa volta che prima non c'era, l'aspetto di colore P3, c'è una luminosità massima che Apple dice essere di 400 nit, dai nostri rilevamenti è un pochino di meno, ma va comunque bene per la maggior parte degli utilizzi, anche perché nonostante sia lucido c'è un buon trattamento antiriflesso, insomma è il solito bello schermo retina di Apple, c'è la solita ottima costruzione, dicevo prima, granitica, generale, solida, tutto quello che volete, ma la vera rivoluzione è all'interno, con il SoC M1 basato su architettura ARM e non più su X86, che cambia davvero radicalmente le carte in tavola, rende questo MacBook Air qualcosa che tutti i suoi predecessori non erano mai stati, è questa volta davvero un portatile per tutti, a tutto tondo, per ogni tipo di utilizzo. Prima ancora che lui arrivasse nelle nostre mani erano già circolati un po' di benchmark in rete, benchmark stratosferici, allora li ho voluti rifare ed effettivamente confermo la bontà, quello che state vedendo adesso è Cinebench R23, aggiornatosi apposta proprio anche per i nuovi Apple Silicon, 1500 single core, 7500 multicore, punteggi entrambi elevatissimi, in particolare quello in single core è quasi dal record, si trovano pochi processori così potenti, buono quello in multicore, non a valori assoluti, come state vedendo qua in basso ci sono processori che fanno senz'altro di meglio, ma guardate chi dobbiamo andare a scomodare per trovare qualcosa di meglio di questo Apple Silicon, che è incastrato a metà tra due Xeon, che tra l'altro, non ve l'ho detto, ma questo M1 è completamente fanless sul MacBook Air, mentre qui abbiamo processori di classe desktop che sono ovviamente raffreddati in maniera attiva e non come questo qui su MacBook Air, che sì, il fatto di non avere il raffreddamento attivo ha delle conseguenze negative, perché se vado a ripetere gli stessi benchmark per 10 minuti già ci si accorge che c'è un calo abbastanza sensibile da 7500 a 6500 sempre nel multicore, il single core è ovvio praticamente che non cali, mentre invece se andiamo ulteriormente avanti, mezz'ora, un'ora, un'ora e mezzo, due ore, ci assistiamo praticamente intorno ai 6000 punti, quindi sì, con una perdita piuttosto sensibile rispetto a quei 7500 iniziali, ma rimanendo comunque a livelli piuttosto elevati, siamo ancora abbastanza vicini a un 7700K, che è un processore desktop e che qui invece viene rapportato ad uno mobile che consuma estremamente meno e che, lo ripeto, non ha un sistema di raffreddamento attivo. Ma lasciamo stare i benchmark, ok? Perché uno può sempre dire che i benchmark sono viziati a 10.000 fattori, che poi comunque non rispecchiano l'utilizzo reale, ho voluto fare proprio un esempio pratico con Premiere Pro. Ho affiancato a questo MacBook Air con M1 un XPS 15 e un MacBook Pro 16. L'XPS 15 era dotato di un i7-8750H con 32GB di RAM e una GTX 1050Ti. Il MacBook Pro 16 invece aveva un i9 con una Radeon Pro 5550M e sempre 32GB di RAM ed entrambi hanno esibito dei tempi di encoding superiori a quelli del MacBook Air e superiori anche di tanto. Il MacBook Pro 16 ci ha messo 24 minuti ad esportare lo stesso video che in 14 minuti veniva esportato da questo MacBook Air con M1. È una differenza abissale 10 minuti e pensate, per di più, che Premiere non è ancora ottimizzato per i processori ARM. Girava tramite traduzione con rosetta, poi vi spiego meglio che cosa intendo. Quindi è comunque penalizzato, non era una delle app native per ARM. Questo proprio per ribadire quanto siano incredibili le performance che riesce a tirare fuori Apple da questa macchina, che ribadisco per l'ennesima volta essere fanless, laddove l'XPS e il MacBook Pro 16 avevano le ventole a tutto volume. Per di più, questi valori li ho ottenuti a batteria, non collegandola alla corrente, perché un altro degli enormi vantaggi di questa soluzione ARM è che, alimentato o non alimentato, avrete praticamente le stesse performance, anzi, vi dirò di più. A volte, tramite il collegamento all'alimentatore, potreste avere qualche cosa in meno, perché c'è dell'ulteriore calore generato dalla ricarica della batteria stessa, calore che non viene dissipato in maniera attiva, e che quindi potrebbe andare ad incidere anche un po' sulle performance, ironicamente parlando. Mi sono divertito quindi a stressarlo in tante altre maniere, forse quella più divertente, quantomeno per me, è stata aprire tutta la rosa di applicazioni che avevo sulla dock, 25 applicazioni diverse, tra le quali tutta la suite da ufficio di Apple, Chrome, Safari, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop in due istanze, quella nativa per Apple Silicon e quella invece emulata tramite Rosetta, o meglio tradotta tramite Rosetta, poi davvero vi spiego che cosa intendo e perché ci tengo a fare questa distinzione, 25 applicazioni aperte, 15 video in 4K, in fullscreen, in riproduzione contemporanea, e ancora era tutto fluido, riuscivo a passare da un video all'altro, riuscivo a fare un'app expose, riuscivo a muovermi nel sistema senza alcun problema, l'ho messo davvero in crisi quando ho avviato lo screen recorder di tutto questo ben di Dio, e allora sì, che in quel caso effettivamente il computer rallentava vistosamente. Ma questo è proprio un assurdo per farvi capire quanto diverso sia questo MacBook rispetto a tutti quelli passati, e rispetto in generale praticamente a qualunque ultraportatile ci sia adesso sul mercato. E non riuscirò mai a farvi abbastanza esempi, altrimenti questo video non finirebbe davvero più in rete, ne trovate davvero tantissimi, da quelli relativi alla programmazione, dove sembra davvero dare le paste, tanto per usare un gergo molto tecnico a macchine ben più potenti, a quelli relativi all'audio, perché ha comunque delle ottimizzazioni basate in particolare sul machine learning, che consentono di applicare molti più effetti in tempo reale, rispetto a quelli che magari facevate su MacBook Pro delle generazioni passate, con un processore Intel. E anche il gaming, perché nonostante questa sia la versione con 7 core grafici, poi ci sono anche quelle con 8, praticamente quasi tutte le altre a parte questa, anche il gaming è di buon livello. Ho giocato a Fortnite, perché voglio dire cosa c'è di più catartico che giocare oggi a Fortnite su una macchina Apple, tanto che è lo stesso gioco che all'avvio vi avverte che non è del tutto aggiornato. Fortnite che gira benissimo, 60 fps praticamente inchiodato, e nonostante io sia una schiappa a Fortnite, è un gioco godibilissimo con una grafica integrata, nuovamente ripeto, completamente silenzioso, fanless, lo ridico per la millesima volta, perché è incredibile, perché non siete abituati a giocare con questo silenzio. Un altro esempio, Rise of the Tomb Raider, girava tranquillamente a risoluzioni e dettagli medi, come state vedendo in questo momento, fluido, senza grossi problemi, né scatti particolarmente vistosi. Ho visto facendo un po' il benchmark che nelle situazioni un pochino più complesse si arriva intorno ai 24 fps, che sono un po' meno magari dei 30 che sarebbero graditi, ma in linea di massima nelle mie prove non ho comunque avuto problemi e per quanto non sia certo una macchina dedicata al gaming, è comunque superiore a tutto il gaming che potevate fare su MacBook Air e direi non solo precedenti con grafica integrata di Intel. E sia chiaro che sia Fortnite che anche Rise of the Tomb Raider girano tutti tramite Rosetta, non sono in alcun modo ottimizzati ancora per questo tipo di architettura, eppure nonostante questo riescono ad esibire appunto delle buone performance come vi ho appena descritto. Tanto che il cloud gaming, che sul precedente MacBook Air era l'unico modo per giocare davvero, qui è più un optional, che potete fare ovviamente per giocare a tutti quei titoli troppo pesanti o che comunque non sono compatibili con macOS, che non è certo un sistema operativo particolarmente ludico, non quanto Windows almeno, ma comunque sono un surplus laddove invece prima il cloud gaming era sostanzialmente l'unica strada per poter giocare su una macchina del genere. Ma come funziona allora questo M1, che è appunto un system on chip, come quelli che del resto ormai sono sui nostri smartphone da tempo, ovvero un aggregato di moduli, per così dire, diversi, che non sono solo la CPU e la GPU, ma che si occupano poi di compiti specifici. In questo caso abbiamo 4 core ad alta efficienza e 4 core ad alta performance, e vi dico subito che i 4 core ad alta efficienza si occupano veramente della maggior parte dei compiti, fin tanto che navigate e basta senza qualcosa magari particolarmente pesante sul vostro browser o senza altre applicazioni in background. Utilizzate solo i core ad alta efficienza energetica e a livello di autonomia questa cosa è notevole, poi vi spiego meglio. Ci sono appunto poi questi 4 core più potenti, ci sono i core della GPU, che sono 7 su questo modello in prova, 8 praticamente su tutti gli altri, c'è la parte dedicata alla criptografia, quella dedicata alla riproduzione video, quella dedicata proprio all'encoding, e i programmi che li sfruttino effettivamente traggono grossi vantaggi in termini di tempi proprio di encoding. Ed è questo il motivo anche di tanta efficienza nei vari programmi, perché M1 non dico che abbia un modulo per tutti, ma comunque per la maggior parte sì, nel senso per la maggior parte dei compiti, che siano a carattere ludico, a carattere audio, a carattere video, a carattere di criptografia, c'è comunque sempre un modulo che si occupa di qualcosa e che sgrava in parte la CPU, laddove invece su CPU concorrenti che non abbiano una simile soluzione dovete risolvere tutto soltanto con la potenza brutta. E sì, se avete un in nove desktop ultra potente ce la fate, ma non è detto che magari ce la facciate con un altro processore di classe Ultrabook o comunque non così potente come quelli che abbiamo visto prima. Anche Intel aveva fatto un discorso simile durante la presentazione di Tiger Lake, solo che poi appunto abbiamo visto che in pratica le performance dei Tiger Lake sono fortemente mirate, a casi d'uso fortemente specifici. Io vi ho fatto l'esempio di Premiere proprio per farvi capire come un software non nativo possa performare bene. Se andate sul Final Cut Pro di Apple ottenete risultati ancora migliori. E la stessa cosa poi mi aspetto da un Premiere quando l'anno prossimo diventerà ufficialmente compatibile con M1. Tanto per dirvivenne una, Chrome, che è solamente da un paio di giorni disponibile in versione ARM, si comporta strabene. Non ho mai visto Chrome consumare così poche risorse e così poca batteria come quando lo sto usando su questo Apple con M1. Sembra un altro browser e soltanto per il fatto di essere stato ottimizzato per questo tipo di architettura. E poi c'è Rosetta, o meglio Rosetta 2, perché la prima Rosetta era quella che si occupava ai processori Intel di eseguire il software per PowerPC. Questa Rosetta 2 è quella che si occupa ai processori Apple Silicon di eseguire il software X86. E come funziona? Rosetta è un traduttore in senso quasi letterale. Cioè alla prima esecuzione di Rosetta Rosetta prende il codice di quell'applicazione pensata per X86 e lo traduce nel linguaggio comprensibile da M1. Le successive iterazioni sfrutteranno questo linguaggio tradotto e non quello originale che non viene più praticamente toccato. In questo modo voi avete un codice che è più ottimizzato per M1 non è la stessa cosa che se fosse stato espressamente scritto per M1 però diciamo che a livello automatico è la cosa migliore che si potrebbe fare. E in questo modo c'è sì un calo di performance ma non così vistoso come si ha per esempio sulle macchine Windows con l'emulazione nei casi in cui appunto abbiate una macchina ARM che vuole emulare per esempio un software a 32 bit dove lì la perdita di performance è sensibile. Qui ve l'ho fatto vedere davvero i tempi di apertura delle app l'esecuzione stessa sono tutti ultra rapidi anche nei software per X86 e tutto grazie a Rosetta 2. Tra l'altro non l'ho sottolineato prima ma una delle tante differenze che si notano in questo M1 è proprio il tempo di apertura delle applicazioni che è radicalmente inferiore anche in quelle eseguite tramite Rosetta alle stesse applicazioni eseguite su macchine con X86 al solito nel paragone con il MacBook Pro di primo o con l'XPS è sempre stato questo Air con M1 a risultare vincitore e questo anche in tante altre piccole banalità per esempio il cambio di risoluzione dello schermo qui è istantaneo se voi avete un PC con grafica Intel saprete benissimo che quando andate a cambiare risoluzione ci sono sempre quegli 1-2 secondi in cui lo schermo diventa nero le app si ridimensionano Windows vi dice magari che le dovete riavviare perché funzioni correttamente qui no, qui cliccate e la risoluzione è cambiata e le app sono a posto e le utilizzate istantaneo, così è una banalità ma è giusto per farvi capire quanto profonda sia l'integrazione tra Big Sur ed M1 e quanto tutto vi restituisca una sensazione davvero fulminea che raramente ho visto su altre macchine non quantomeno così a tutto tondo e non in un MacBook Air per di più essendo una macchina basata su architettura ARM c'è anche la possibilità di far girare le applicazioni per iPhone e per iPad le trovate direttamente sull'Apple Store quando fate una ricerca sono proprio divise in colonne differenti a seconda di quelle native per Mac OS o quelle per iPhone e per iPad potete installare ed eseguire queste ultime senza alcun problema anche se ancora ci sono alcuni limiti primo fra tutti non aspettatevi di trovare tutte le app che ci sono sull'App Store di iPhone e di iPad perché comunque lo sviluppatore ha il diritto di non farle pubblicare anche nell'App Store per MacBook e molti hanno scelto di non farlo non troverete Instagram, Facebook, Whatsapp tutte le applicazioni social o di messaggistica più famose ancora non ci sono questo non vuol dire che non potrebbero arrivare in futuro ma ancora non ci sono inoltre le applicazioni per iPhone e per iPad girano in finestra non le potete mandare in full screen tutt'al più potete commutare tra sostanzialmente portrait landscape e soprattutto non essendo uno schermo touch quello di questo MacBook Air ci possono essere un po' di difficoltà in quelle applicazioni più swipe o touch centriche Apple ha fornito delle alternative tramite tasti o tramite touchpad per rimediare a questo ma l'esperienza non è sempre delle più intuitive o comunque delle più immediate fatto sta che vi dirò la verità secondo me va anche bene così nel senso meglio intanto non avere subito tutte le app se poi l'esperienza non dovesse essere troppo buona meglio prendersi del tempo perché comunque abbiamo visto per esempio sui Chromebook che portare in blocco tutte le app Android non è detto che sia per forza una buona idea e soprattutto è una buona idea anche il fatto che non siano sempre full screen perché comunque se un'applicazione è stata pensata per uno schermo stretto e verticale se voi la andate a strecciare su un 16 decimi probabilmente avreste una povera esperienza d'uso meglio averla più piccola in finestra ma più utilizzabile almeno secondo me piuttosto che ritrovarsi con spazio sprecato o magari proprio con qualche problema a livello grafico e di visualizzazione perché l'avete adattato ad un formato che non è quello per il quale era stata pensata non mi voglio comunque dilungare troppo perché secondo me al momento questo passaggio delle app iPhone e iPad su Mac non è un vero game changer non è il motivo per il quale comprare il nuovo MacBook Air magari farò un video dedicato proprio a questo specifico argomento perché poi come vi ho detto ci sono delle limitazioni ma c'è anche il modo di aggirarle non riguarda strettamente soltanto il MacBook Air quindi video dedicato voi iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche almeno saprete appunto quando pubblicherò questo nuovo contenuto e non solo non mi voglio dilungare proprio perché c'è un altro aspetto importante che finora ho solo sfiorato che è quello dell'autonomia autonomia che è davvero notevole soprattutto fin tanto che entrano in gioco soltanto i core ad alta efficienza e vi assicuro che ve ne accorgerete proprio guardando quanto velocemente scende la batteria quando entrano in gioco uno o quando entrano in gioco gli altri e non che quelli ad alta efficienza la scarichino ultra rapidamente come avviene sulle macchine Intel però comunque sia più rapidamente sì per darvi un esempio concreto navigando con Chrome Chrome comunque nativo versione ARM ho fatto circa il 5% di batteria in meno ogni ora una navigazione si leggera ma comunque con una quindicina di schede sempre aperte scrivevo articoli ne leggevo ne aprivo altri quindi c'era una certa dinamicità certo non avevo dei video continuamente di produzione in background le schede che tenevo in esecuzione erano tutte abbastanza leggere fatto sta che comunque con 15 schede aperte 25% di luminosità 5% all'ora è una cosa praticamente da primato questo vuol dire che in linea di massima in un'ottica lavorativa media fatta di navigazione ufficio chat la giornata lavorativa la portate sempre a casa 10 ore io sono riuscito a farle abbastanza tranquillamente si può arrivare oltre con un utilizzo un pochino più attento si può farne anche di meno spremendolo un po' di più aumentando la luminosità fatto sta che davvero se starete attenti questo macbook non caerà praticamente di batteria in maniera così vistosa come invece siete abituati su tutti quelli delle generazioni passate l'unico diciamo neo è che il caricabatteria incluso è da soli 30 watt quindi la ricarica è tutto sommato abbastanza lenta ci vogliono circa due ore abbondanti per fare il pieno da 0 a 100 però la buona notizia appunto è che poi quel pieno vi durerà per tutta la giornata e volendo anche di più e poi sì volendo altri difetti si possono trovare la webcam che è ancora soltanto a 720p la qualità quindi bene o male è quella adesso c'è l'ISP del SoC M1 che va a elaborare l'immagine per bilanciare meglio il bianco e secondo me ammorbidire anche un pochino i toni della pelle per esempio che qualcosa si migliora ma è comunque sempre una webcam a 720p non ci siamo schiodati da lì buono invece l'audio secondo me che state ascoltando in questo momento non a livello dei migliori MacBook quello lo trovate nel nuovo MacBook Pro 13 che è lo stesso array di microfoni studio che c'è nel MacBook Pro 16 ma comunque superiore alla media e poi abbiamo soltanto appunto due porte USB-C per quanto USB 4 da non confondere con le Thunderbolt 4 quindi un dongle bene o male probabilmente vi ci vorrà la RAM non è assolutamente aggiornabile la RAM adesso non ve l'ho detto prima ma è uno dei motivi tra l'altro dei tanti motivi per i quali il sistema è così reattivo la RAM adesso è integrata nel SOC stesso non dovete più comunicare tramite un bus con la RAM quindi il tempo di accesso alla RAM stessa e qui ci sono solo 8 giga è infinitamente inferiore rispetto a quello che avete in soluzioni diverse e proprio per questo nonostante ci siano solo 8 gigabyte non è facile mandarlo in crisi da quel punto di vista proprio perché l'accesso la lettura la scrittura sono velocissimi e in linea di massima anche quando ho visto il sistema ricorrere ad un po' di swap non ho notato lì per lì dei bruschi cali di performance magari li noterete se lavorerete con file singoli più grossi di 8 gigabyte non si possono comunque superare i 16 gigabyte perché non sono proprio supportati non c'è ovviamente verso di espanderli manualmente non c'è supporto a GPU esterni direi forse anche per un fatto proprio di incompatibilità delle architetture non c'è il touchscreen ma vi dirò che secondo me va ancora bene così perché come vi ho detto prima il discorso delle app di iPhone e di iPad per ora non è determinante in generale comunque a parte questi difetti che bene o male c'erano un po' anche in passato è secondo me una prima generazione riuscitissima è difficile che la prima generazione di un prodotto sostanzialmente radicalmente nuovo perché è radicalmente nuovo proprio alle basi questo MacBook Air sia così ben riuscita di solito le prime generazioni sono sempre dei tentativi e qui invece è un tentativo che mantiene tutte le promesse di maggiori performance sotto tutti i punti di vista che Apple aveva fatto durante la presentazione e non è affatto poco questo è il primo MacBook Air sul quale potrò davvero andare a montare la recensione che sto registrando in questo momento laddove in passato non era praticamente nemmeno ipotizzabile ed è il primo MacBook Air che tra l'altro vi regala un così grande incremento di performance ad un prezzo inferiore 60 euro in meno per la versione base rispetto al modello precedente e questo cambia un po' tutto il paradigma perché d'ora in poi non si potrà più dire eh sì ma allo stesso prezzo ti prendi una macchina Windows che performa il doppio perché non è affatto detto a 1159 euro non è facile trovare macchine Windows così leggere così performanti e senza ventola se andiamo a mettere proprio il dettaglio di senza ventola è impossibile trovarle ma in generale comunque non è facile e in generale di massima anzi sarà più facile dire guarda se spendi 100-200 euro in più ti prendi il MacBook Air che è meglio di questo piuttosto che il contrario è un bel cambio di paradigma per essere una macchina di Apple certo si vede che è una macchina di Apple andando a guardare gli upgrade di RAM e di storage che quelli sì effettivamente sono cari 230 euro per addoppiare la RAM 230 euro per addoppiare lo storage insomma guardatevi sul sito Apple se doveste fare delle modifiche rispetto alla versione base il prezzo effettivamente sale abbastanza facilmente ed abbastanza rapidamente poteva essere un 10 è il primo notebook al quale ho pensato davvero di dare un 10 poi non l'ho fatto perché comunque anche lui delle piccole imitazioni come vi ho detto ma poteva davvero essere un 10 perché è una macchina seriamente rivoluzionaria che diventerà secondo me proprio un nuovo termine di paragone per questo tipo di notebook in questa fascia di prezzo e non solo trovate come sempre ulteriori dettagli nella recensione completa che ho pubblicato su smartwatch.it ci sono tante cose che non ho svisciato in questo già bello lungo video da parte mia vi ricordo intanto di fare un like a questo video se vi fosse piaciuto o anche un dislike ma voglio sapere che cosa ne pensate dei nuovi Apple Silicon nei commenti perché beh insomma mi sono già dilungato abbondantemente su quello che ne penso io ora voglio sentire anche voi da parte mia come sempre un saluto e alla prossima ciao Grazie a tutti.